Il mutuo appoggio di Kropotkin, libro importante perché ci offre numerosi spunti sia teorici che prefigurativi, organizzativi, di un mondo forse che desidereremmo tutti quanti arrivasse al più presto. Ma al di là del libro, che ripeto è un libro molto importante, quello che mi interessa qui brevemente ricordare è Kropotkin. Chi era questo uomo straordinario che ci ha lasciato una infinità di opere importanti e che adesso Eleutera ne pubblica uno per la prima volta in traduzione direttamente dall'inglese, importantissimo come il mutuo appoggio. Chi era Kropotkin? Chi è stato questo uomo? Kropotkin nasce nobile, nasce dentro la società ricca e nobiliare della Russia, zarista, tanto da essere al più presto, fin da piccolo, scelto dallo zar in persona per far parte del corpo dei paggi. Ad una certa età, quando è il momento di intraprendere la carriera militare, Kropotkin rifiuta di seguire le orme del padre e chiede di essere assegnato ad un drappello, ad un plotone, ad un gruppo di esploratori, sempre militari ovviamente, che in qualche modo arrivassero a scoprire le nuove situazioni ecoambientali della Siberia e della Manciuria settentrionale. tra il 1862 e il 1866 lui vive in quei territori desolati dove la vita è difficile non solo per le condizioni ambientali ma anche per quelle atmosferiche, anche per la difficoltà di muoversi, anche per la difficoltà di approvvigionarsi di alimenti, insomma in tutti i sensi e compie degli studi importantissimi, non solo geografici ma anche di tipo etologico, etnologico, antropologico e studia in particolar modo l'evoluzione dei ghiacciai. I suoi studi poi saranno ripresi e ricordati e ancora oggi sono oggetto di spunti per ulteriori ricerche. Quindi dopo questi quattro anni al suo rientro in Russia a Pietroburgo viene nominato segretario della Società Russa di Geografia. Ma gli anni della Siberia sono stati una scuola di vita importante per Kropotkin, sono stati una scuola di vita e di riformazione decisiva per trasformarlo in un anarchico. In effetti nel 1872 abbandona gli incarichi prestigiosi che aveva e si trasferisce, va, scappa, fugge dalla Russia azzarista e va a Ginevra dove incontra gli orologiai della regione del Jura francese, aderisce all'internazionale anti-autoritaria e si oppone quindi in questo modo alle teorie marxiste che avevano in qualche modo condizionato pesantemente la vita dell'internazionale dei lavoratori. Sposa quindi le teorie di Bakunin e diventa un militante attivo e spenderà gran parte della sua vita ad alternare la sua militanza politica fatta di opuscoli, di libri, di conferenze, di incontri con la ricerca scientifica. Rientra in Russia nel 1874 e viene immediatamente arrestato e confinato nel carcere di San Pietroburgo da dove nel 1876 in modo rocambolesco riesce a fuggire, a evadere dalla prigione e a scappare in Europa ancora. Europa che lo vedrà presente in moltissimi paesi, infatti comincia in quell'epoca il suo pellegrinaggio continuo in tutti i diversi paesi europei, in Svizzera, in Inghilterra, in Francia dove verrà nuovamente arrestato nel 1883 e solo nel 1886 liberato dalla prigione francese emigrerà in Inghilterra dove fonderà la rivista Freedom e l'omonima casa editrice. Aveva fondato in Francia numerosi giornali, ricordiamo le Revolté in particolar modo, e collaborato con l'Isère Clue alla Nouvelle Geographie Universelle. Insomma ormai il suo nome era noto, la sua influenza era importante nell'ambito anarchico ma in genere nell'ambito di tutta una sinistra socialista non esclusivamente e anzi che rifiutava la ideologia marxista in modo particolare. In Inghilterra scrive alcune delle sue opere più importanti come La morale anarchica, La scienza moderna e l'anarchia, Campi, fabbriche e officine, Il mutuo appoggio. Collabora numerose riviste non solo anarchiche ma anche scientifiche come in particolar modo ricordiamo the 19th century. Nel 17 allo scoppio della rivoluzione ritorna in Russia per sostenere la causa dei rivoluzionari ma subito denuncia l'evidente deriva autoritaria che il sistema bolshevico ha assunto imprigionando ogni sforzo vitale e innovativo in senso libertario della rivoluzione stessa. Nel 19 si trasferisce a Dmitrov da dove rivolge un appello prima di morire ai lavoratori del mondo per metterli in guardia dai pericoli dell'autoritarismo non solo in senso capitalistico ma anche in senso socialista. Muore prima di completare la sua opera più importante che resterà incompiuta l'etica nell'otto febbraio del 1921 il suo funerale sarà l'ultima grande manifestazione anarchica in Russia. Kropotkin non è solo un militante e non ci ha lasciato solo una testimonianza straordinaria di vita ma è anche un esempio importante per la cultura contemporanea. È quello che potremmo definire un savant, un saggio, un uomo che ha guardato la realtà con uno sguardo obliquo rispetto a quello del potere e soprattutto in modo multi, inter e transdisciplinare. Zoologo, antropologo, geografo, filosofo, biologo, storico, questo è stato Kropotkin e ci propone la sua vita, il suo modo di ricercare, ci propone una conoscenza globale, integrale, che sfugge alla logica schematica dell'iperspecializzazione per capire gli esseri umani o meglio gli esseri viventi globalmente intesi. Non è un caso se oggi Kropotkin negli ultimi anni è stato ripreso da scienziati di fama mondiale come Franz De Waal, forse il più importante primatologo ancora vivente, come Stefan J. Gold, grande biologo che si oppone alle teorie di Richard Dawkins del gene egoista, come al nostro italiano Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale e molti molti altri. Insomma Kropotkin era un personaggio straordinario e questo libro è una testimonianza ancora più bella e più profonda di questi valori, di questi principi e la testimonianza di un modo di fare ricerca, di un modo di approcciarsi alla realtà che è libertario, un modo di trovare risposte a problemi del vivere quotidiano in modo autonomo qui e ora per rendere sempre più inutile la presenza dello Stato. Grazie. 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 Grazie.